È una grande gioia per me, è un grande piacere poter dare il mio contributo per i piccoli pazienti che insieme alle loro famiglie sono accolti nell'ospice pediatrico, il primo in Lombardia, realizzato da Vidas e aperto fin dal 2019. Un sogno, un progetto fortemente voluti da Giovanna Cavazzoni, fondatrice e presidente e donna straordinaria e eccezionale, amante della musica e di quello che la musica crea, cura, vicinanza, bellezza. Oggi il Casasollievo Bimbi è una struttura all'avanguardia dove bambini e ragazze da zero a 18 anni con malattie rarissime e non guaribili, lì vengono curati con amore, competenza da un'intera equip che comprende medici, infermieri, os, psicologi, logopedisti, educatori, fisioterapisti, e neuropsicomotricisti. Un sogno concreto, diventato grazie a Dio una bella realtà, un unicum in Lombardia e forse in Italia. E grazie ai contributi generosi di tantissimi cittadini e organizzazioni che hanno creduto nel progetto, questa serata musicale è l'opportunità anche per voi di compiere un gesto concreto di vicinanza. Ogni gesto è una goccia e non ne deve mancare nessuna. Più ce ne sta, ovviamente meglio.